Il governo del territorio è il centro del penultimo incontro di dire e fare la rassegna promossa da Ance Regione Toscana che quest'anno utilizza un format itinerante e fortemente partecipato, con tavoli tematici di discussione composti da istituzioni, dipendenti pubblici e realtà locali. Il centro dell'iniziativa è stato a Scandicci nel cuore del nuovo centro Rogers, punto nevralgico della politica e amministrazione, del commercio, della vita di comunità e soprattutto della mobilità con la tranvia che porta il trasporto pubblico nel centro città collegando direttamente uno dei più grandi comuni della cintura metropolitana con Firenze. Il tutto ha spiegato il sindaco Vallani senza impattare con il consumo di suolo. In questo momento nella nostra città ci sono 150 mila metri quadri di aree industriali che sono state recuperate senza aggiungere un metro quadro in più, bonificandole e risarandole, quindi dando completa attuazione a quella parola che rischia di essere un po' accademica e non avere attuazione che è la rigenerazione urbana per oltre 100 milioni di cantieri edili aperti grazie al dinamismo imprenditoriale. Siamo in un luogo che è stato pensato negli anni 90 poi posto in attuazione negli anni 2000 di completamento della città con la tranvia, quindi il primo infrastruttura pubblica, la prima rivoluzione culturale, la tranvia è principalmente un'infrastruttura culturale che porta 13 milioni di persone, attorno alla tranvia sta crescendo il nuovo centro, quindi un modello europeo che credo possa essere seguito da chi vuole cambiare le città e trasformarle soprattutto da un punto di vista sociale. Insomma Scandicci, città moderne, città modelle e i propri nuovi modelli di governo del territorio sono stati al centro del dibattito dei tavoli tematici, una discussione aperta e accesa tra paesaggi urbanistiche e l'esigenza di normative sempre più rispondenti ai bisogni dei comuni, delle realtà economiche e dei cittadini, regole che la regione ha saputo ridelineare con nuovi piani. Dai tavoli però sono giunte nuove richieste anche al governo centrale. C'è bisogno che la questione del governo del territorio, il tema, entri nell'agenda politica, entri che sia affrontato a un tavolo nazionale anche sotto il profilo di una nuova proposta, una nuova normativa di carattere nazionale che aiuti e sostenga i governi regionali nel governo del territorio e nell'affrontare i nuovi temi come ad esempio la sfida al non consumo di suolo. La disciplina del governo del territorio e del paesaggio è uno dei temi più attuali e sicuramente più sentiti perché è legato a un duplice obiettivo di fondo, entrambi gli obiettivi molto importanti. Da un lato preservare la bellezza paesaggista e naturalista dei nostri territori, dall'altro però decidere nelle aree che sono vocate a questa funzione come sviluppare i nostri territori soprattutto in termini di economia, di lavoro perché sappiamo tutti quanto è importante questo aspetto oggi. Stiamo attraversando un periodo per il nostro paese molto complesso e quindi ciascuno deve assumersi le proprie responsabilità e cercare di dare delle prospettive concrete di futuro alle nostre comunità. Dire e fare ha toccato nel corso dei suoi incontri a Siena, Pisea, Rezzi, temi della cultura e dell'innovazione del welfare, la chiusura della rassegna dedicata alla pubblica amministrazione prevista a Firenze con un focus sulla scuola.